buongiorno coccodrilli adesso lo posso dire forte ci siamo ci siamo manca veramente poco poche ore all'uscita della canzone sono un po emozionato veramente ragazzi per chi mi da tanto tempo sa quello che vuol dire per me comunque sta pieno anche stamattina sta pieno per i vittori basta fare swipe vi metto il link qua e presalvate la canzone sta pieno mia e di nonno faustino quindi fate swipe la presalvate su apple music loggandovi o su fai quindi ragazzi coccodrilli voglio vedervi tutto tutto il nostro la nostra famiglia fare swipe up perché domani esce la canzone quindi ve la ritrovate subito nella vostra libreria vi voglio bene c'è qualcuno che ha fatto il birichino adesso vi faccio vedere la storia successiva perché stamattina mi sono svegliato uno e due guarda come ride hanno fatto i bagordi e hanno fatto un piccolino vi faccio guardate 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 bene hanno fatto un bambino si è cappottata le hanno fatto un piccolo bambino guardate che bravi amorino amore scendi dai la mano viene giù da solo ragazzi scendi dai va bene dai che c'è colazione sei pronto per la canzone che esce domani certo sono prontissimo vede come vuoi in palestra guarda come pompa guardate che stile questo è stile coccodrillo sta 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 pieno sto pieno esercizio per le anche uno su giro bravissima bellissimo se esercizio vedere i nonni che si allenano che sono in super forma è veramente bello ragazzi è più di ogni traguardo obiettivo che uno si può porre vedere vitalità fondamentale quindi uno alla fine non sa mai dove può arrivare quello che potrà fare ma vedere queste cose fanno bene veramente al cuore quindi bello 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 credibile ragazzi mi è arrivato un altro pacco da amazon eccolo qua andiamo ad aprirlo e vai anche la gamba è arrivata e il piede piano piano sta arrivando tutto che bello ragazzi guarda che bella gamba guarda che bel cianchetto guarda che bello stinco bello 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 piano piano sta prendendo forma ma che è ma che è ma che è eccolo siamo qua in studio riuniti e tu dai sulle fresche frasche ascolta io c'ho una commissione si devo fare una cosa i ragazzi di fuori focus che stanno lavorando al video com'è sto video matti sta pieno eh oh che dici sta pieno sta pienissimo e poi c'è lui il più esigente il più rompi però il più bravo il nuovo huli iglesias oh chi è? no non ti spaventi più eh? che è successo? chi è? è lui è lui è lui è lui è lui è lui scopriamo oh è una bellezza mamma mia no bellezza è una bellezza è una bellezza è una bellezza Musica